allora anche oggi volevo parlarvi mi hanno già parlato un pochino di questa casa editrice la toshokan no la toshokan la nuova casa editrice questo con questo simbolino qua la nuova casa editrice che pubblica non solo manga ma anche prodotti che arrivano dalla cina dalla thailandia da questi sono non ho propriamente manga che arrivano dal sollevante io in realtà avevo preso anche quest'altro manga manchino qua che si chiama great trailer tra il va bene è uscito un solo numero molto carino mi era piaciuto ma non sono completamente dimenticato di questa data perché è uscito da un po cito solo numero se ho capito bene l'autore non non ha fatto più uscire niente perché insomma si è lamentato che assomiglia qualcuno abbia detto che il suo tratto sul racconto assomigliava troppo a come si chiama kasuhiro tomo kasuhiro tomo come cazzo si chiama lui no l'autore di akira io direi anche mamma quanto sei permaloso porca punta ma fai sto manga non rompe i coglioni no comunque faccio come cazzo gli pare intanto volevo farvi appunto vedere quest'altro prodotto due strani mondi ok mi parlerò di questo volumetto del di come è stato creato no cosa 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 ne penso strutturalmente e poi magari un altro giorno vi dirò due cosine sul sul volume perché comprarlo sul manga no sul fumetto sul maoa o come lo volete chiamare noi allora due strani mondi the magic flute jump jump già all'interno ci sono due storie ok di light at that wing un autore di hong kong allora io personalmente sto cercando ogni tanto cerco una lettura nuova no e quindi mi era siccome piaceva la fantascienza non mi attirava tantissimo la copertina però sono andato a vedere mi ha incuriosito all'interno la prima storia visto che parlava di fantascienza insomma un autore sconosciuto qua in italia e ho pensato perché non ho voluto prenderlo nonostante le sue 12 euro e 90 le dimensioni di questo volume sono 18 un pochino meno di 18 per per 12 e mezzo 13 spessore quasi 4 centimetri ok un volumetto rilegato a colla non a filo di questo spessore voi sapete quanto possono essere fragili però andiamo a vedere di come diciamo così come comunque lato shock a questa casa editrice a seconda di cosa deve stampare quindi fa uno studio anche di stampa secondo me sceglie scegli il prodotto da utilizzare ok la carta è molto molto morbida rugosa come potete vedere ok e secondo me si adatta perfettamente a questo tipo di volume un pochino la carta ricorda appunto quella che viene utilizzata nei libri no economici quelli mallopponi dove ci sono le grandi saghe quindi si possa stampare tranquillamente non utilizzando dei grandissimi neri ma solamente delle scale di grigio risulta anche il volume piacevole nel senso che non ci sono giusto se ci fai passare la luce dall'altra parte si vede diciamo il disegno che corrisponde alla pagina precedente ma in realtà in realtà all'interno e c'è una buona stampa come i prodotti che ho visto ha fatto che ho controllato dato un'occhiata agli altri prodotti della toshokan ragazzi non so come si pronuncia comunque questa casa editrice qua insomma e poi tratto è scritto piccolissimo non non lo leggo neanche bene io non ci vedo più niente mi dovrò cambiare anche gli occhiali comunque la stampa questa come come questo altro prodotto che vi ho fatto vedere che utilizzo lo stesso grammatura di pagine a me queste pagine piacciono tantissimo sembrano queste qua che sta utilizzando sembrano molto quelle bonelli bonelliane che si utilizzano nelle edicole in realtà hanno la stessa grammatura ma sono di una qualità leggermente superiore naturalmente il prezzo cambia da quel tipo di prodotto e posso dirvi già che visto le pagine no il prodotto 12 13 euro 12 e 90 e è un prodotto che copre copre i costi di produzione di questo prodotto no considerando anche che l'autore all'interno insomma dei dei pagano ok poi abbiamo la stampa è ottima poi abbiamo io ve lo consiglio noi è un prodotto molto curioso nuovo nel suo genere anche se il primo racconto per chiama la fantascienza niente di così innovativo però io ho trovato una gran bella lettura si poteva la trama si poteva sviluppare anche in una saga un po più lunga bellissima bellina la copertina in doppia faccia diciamo che la copertina ufficiale questa con le alette dall'altra parte in realtà non è una copertina ma è una sorta di posterino quasi inutile però però qua ha voluto portare un minimo di novità no la questa casa editrice perché vi ho già detto non lo stampaggio no andatevi a vedere tutte diciamo nella playlist no vi ho parlato delle sovracoperte come vengono realizzate questo è un lavoro in più che viene fatto non solo di stampa ma anche di plastificazione ok come vi ho già detto viene viene ricoperta da una pellicola trasparente giusto per proteggere non solo la copertina che uno potrebbe dire chi se ne frega ma lo stesso volume da da muffe da dai raggi solari che insomma colpiscono il volume o o quant'altro che quindi quando vi dico già un minimo le copertina giorno d'oggi sono i volumi vostri rumi a giorno d'oggi sono comunque un minimo protetti ok un'altra cosa da dire su questo volume ecco l'arco vedete che qua fa un leggero arco questo non è un difetto avendo le pagine così morbide naturalmente più aggiungi volumi in una rilegatura colla naturalmente e più quest'arco lo fa perché il peso si va a distribuire lungo le pareti nole i lati quindi quest'arco la prima volta io questo quello preso che era drittissimo ok li ho controllato anche gli altri erano già leggermente piegati perché basta semplicemente aprire il volume così è già la forza del dei latino va a piegare questa curvatura che è normalissimo si usa fare quando è che non è normale quando qua in mezzo compare la riga bianca quindi quando compare il taglio netto su un prodotto che avete già comprato avrete già notato alcune volte questo perché si si va a forzare troppo il volume e quindi la copertina è troppo troppo rigida anche questa siccome è già troppo rigida e quando anche le pagine all'interno sono pesanti molto spesse no quindi una grammatura scusate una grammatura superiore a questa e quindi si va praticamente come vi ho già spiegato a tagliare il volume in questo caso si va solamente a deformare no proprio perché il peso deve farlo perché insomma il come vi ho già detto anche questo volume che è molto corposo si piega poco ma è molto flessibile proprio perché si piega poco perché il volume è piccino ok naturalmente più volume grande più l'apertura no cioè il peso si distribuisce lungo gli angoli quindi si può aprire in modo migliore per quello vi dico che prendere questi volumi e leggerli così perché le pagine sono origine perché il dorso di gina perché la copertina è tutto rigido leggerlo così si fa fatica perché noi che amiamo il fumetto se spendiamo 15 euro e vorremmo minimo aprirlo per poterlo leggere non non solo annusare il puzzo della carta ok ragazzi quindi quindi il volume tecnicamente è stampato bene perché ha utilizzato le pagine che vanno utilizzate naturalmente è una rilegatura si è scelto per risparmiare una rilegatura a colla quindi come potete vedere si forma l'arco che va coperto con questo naturalmente una rilegatura invece a filo viene coperto dal cartonato che ha già l'onda ha già l'onda qua no che che copre il volume e trovate anche quest'arco quest'arco sa da fare come ho già fatto in qualche video quindi se lo trovate in fumetteria già con questa angolatura è normalissimo accertatevi solo appunto che non è tagliato in mezzo perché in quel caso lì vuol dire che è stato veramente forzato in due quindi si è andato a tagliare quel quel volume che non si può più recuperare come dico spesso come ho già detto altre volte come mi ha detto come mi diceva spesso il mio maestro il mio maestro di legatura no ogni volta che noi andiamo ad aprire un volume no andiamo a tirare una martellata sul libro quindi quando voi siete anch'io sono un patito della carta sono nato in mezzo alla carta ho sempre letto in questo modo no facendo attenzione no perché avevo paura si faceva male il libro però un una una piccola verità c'è in tutta questa cagata che vi ho raccontato ecco proprio perché appunto i maestri di un tempo la pensavano in questo modo no stiamo parlando appunto di materiale molto molto fragile quindi mi raccomando se lo vedete 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 quest'arco è un arco naturale che deve deve uscire fuori perché se rimane bloccato così tutte queste pagine rischierebbe di non aprirsi ok un'altra cosa che voglio dire la stampa i neri sono sono ben fatti qua ci sono anche delle sfumature di grigio a me piace molto questo tratto vedete non può irregolare non proprio perfetto no anche in un certo senso bruttino questo autore questo me ne parleremo nel video che farò dopo quindi questo arriverà lunedì l'altro lo manderò in settimana comunque vi parlerò leggermente di perché l'ho preso e se ve lo consiglio pure no comunque lo consiglio perché è un bel è un bel volume diverso dal solito ok nella copertina non abbiamo niente di speciale sono riportate le copertine in bianco e nero di qua ci c'è un piccolo redazionale e boh ragazzi come come struttura di questo prodotto siccome ne vedremo ancora della toshokan io lo spero spero anche appunto che ci porti questi questi nuovi autori no orientali che non che non arrivano per forza la sollevante perché questa è stata una gran bella sorpresa e ripeto da rilegatore da amante del della dell'arte della stampa io trovo che questo volumetto questo volumetto è un piccolo gioiellino ecco di di rilegatura e boh ragazzi non ho nient'altro da dirvi se se ve lo trovate acquistatelo e non ho fatto questo video perché appunto volevo giusto farvi capire questa questa roba qui che non è un difetto anzi è una cosa che deve fare vedete se se voi provate a pensare a un volume rilegato a filo cartonato no è questo quello che fa di sotto quello mettete così di sotto all'arco no con la stoffa qua attorno fa l'arco proprio perché deve farlo perché deve aiutare l'albo ad aprirsi e in più il cartonato fa quest'arco qua no ok ragazzi ci vediamo alla prossima nient'altro a dirvi seguiteci su telega ma se avete da farmi delle domande venite su tema parliamo privatamente io sono il mondo di fogo mi potete trovare su telegram oppure riunite al canale telegram mi fate la domanda poi se volete uscire uscite non siete obbligati a rimanere nei nostri canali ok ragazzi ci vediamo al prossimo grazie a tutti